Ciao a tutti, il ristorante a pesce di Acquasparta nel mese di dicembre introdurrà delle nuove pietanze nei loro menù che vi lascerò comunque in descrizione il post con tutte le notizie dove si trova il ristorante e quali sono le ottime pietanze che faranno parte dei loro menù sostanzialmente di dicembre e che andranno ad arricchire i loro menù già esistenti. Da pesce potete trovare il menù a partire da 9,90 euro fino a 25 euro con la possibilità di avere vari cibi infatti il menù da 9,90 è sostanzialmente un pranzo lunch solo un primo o un secondo in contorno acqua, vino e caffè mentre per quello di 15 euro un primo, un secondo in contorno e quello da 20 e 25 euro ci saranno ancora pietanze ci saranno più pietanze e più portate per cui vi vede a seguire questo ristorante perché ne vale veramente la pena si trova ad acqua sparta, un ristorante dove poter gustare dell'ottimo pesce vi lascio in descrizione le pietanze di dicembre che trovate per la prima volta e che andranno ad arricchire il loro menù e le vostre esperienze culinarie